Parte la campagna nazionale di rifondazione comunista per dire no all'aumento delle bollette, una campagna che ovviamente coinvolge anche la nostra regione di Sante. Noi chiediamo al Parlamento e al Governo d'Aghi di bloccare questo vergognoso aumento delle bollette, parliamo del 9% in più sulla luce e del 15% in più sul gas. Ci avevamo detto che con le privatizzazioni e le liberalizzazioni sarebbe stato tutto meglio per i cittadini, diminuiti i costi, invece i cittadini continuano ad essere tartassati mentre vengono garantiti per legge i profitti alle multinazionali dell'energia. È una vergogna e il Governo d'Aghi batta un colpo, non si capisce perché si possano tartassare i cittadini e non far pagare i milionari. Parliamo di tante utenze che coinvolgono anche e soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza. Tutti parlano di crisi sociale, economica aggravata dal Covid, ma invece di tutelare quelli più deboli che in questo momento sta perdendo il lavoro, chi perde la casa, voglio solo ricordare che dal 1 luglio sono stati liberalizzati gli sfratti, c'è nuovamente la libertà di licenziare in questo paese perché è stato tolto il blocco dei licenziamenti e adesso arriva anche l'aumento delle bollette. È una vera vergogna. Grazie. Grazie.